e salve a tutti i ragazzi ciao come sta tutto è bene a parlare napoletano momento benvenuti in questo nuovissimo video in cui farò un video specialissimo bellissimo che sicuramente lo sapete tutti quanti prima di cominciare questo nuovissimo video lasciate tantissimi like e di mi piace dato che questo video è particolare per favore commentate in questo video nuovo che sto facendo adesso che ora vi dirò di cosa si tratta e vi faccio vedere belle cose che ho comprato ok ferma la musica allora questo video è particolare ho detto come prima di cominciare questo video sarà un video particolare diciamo oggi sono uscito sono uscito con mia madre e diciamo faccio una passeggiata no sono uscito con mia madre per andare a comprare i pantaloni corti e i vestiti la maglietta corti quindi questo video è dedicato ai vestiti che mi sono comprato oggi e ora ve li faccio vedere metto la musica di introduzione così che anzi questa canzone appunto l'avevano messo quando facevano alcuni video precedenti magari sofì e lui ci tenevo a salutarli vi mando un bacio vi potete pure commentare se volete e diciamo vi volevo fare i complimenti vi ho seguito e mi è piaciuto questa canzone che avete fatto tipo sembrava il mondo di patti proprio la scuola e mi è piaciuto vi saluto a te sofì e lui vi mando un bacio se mi potete fare i complimenti mi commentate in questo video che sto facendo in questo momento va bene e che posso dire cominciamo immediatamente ok vi faccio vedere che cosa ho comprato dai cinesi aspettate allora mi sono comprato io faccio le più i pantaloni a ms è scambiato quindi i pantaloni corti e maglietta corti non so se lo vedete questi pantaloni della marca della frutta e mi sono comprato questi pantaloni spero vi piaccia ecco allora lo metto qua mi sento famoso poi ho comprato questi pantaloni che non so che marca è che si chiamano baci e abbracci però un bel pantaloni comunque e ve li faccio vedere pure guardate spero vi piacciano tutte e due la frutta la marca della frutta questo non so che marca è e ora vi devo fare una marca bella della monster o come si dice monsters perché c'è scritto monsters appunto nella maglietta c'è scritto proprio così allora vi faccio vedere la maglietta che anzi me ne sono comprati due magliette bianchi ecco questo è della monsters leggende ed è troppo figa bellissimo troppo figo colori ho sbagliato ecco lo metto qua e per concludere c'è l'ultima maglietta è adatto con i pantaloni della frutta naturalmente è questa di qua questa è la marca della ceres c'è la cerniera questi in questa maglietta ed è gialla è adatta che ci stanno i pantaloni e così lo prendo sposto questi che vi ho fatto vedere in questo momento as per allora con questa è questa ci sta alla grande sicuramente un elemento per il compleanno che fa anzi per il compleanno lo fa marica diciamo li metto diciamo mi vesto bello elegante per il compleanno quindi ci può stare e posso mettere pure quando devo uscire eccolo qua la frutta ve li faccio vedere di nuovo anzi ve li faccio rivedere aspetta guardate allora per questo video che vi ho fatto sui vestiti che mi sono comprato dai cinesi oggi lasciate come al minimo venti like venti like o 10 come volete voi ecco qua della ceres e poi vi faccio vedere di nuovo questo baci e abbracci allora poi questo monsters leggende ok evito dire una cosa magari può uscire fuori qualche cosa praticamente c'era una maglietta oltre questa della monsters perché poi ho deciso di prendermi questa maglietta e avevo deciso che c'era un c'era una maglietta che mi piaceva tantissimo era con praticamente questa maglietta era grigia appunto ed era con tanti cappelli ed era bella questa maglietta mi piaceva ma lo prendo ho detto no vabbè c'era pure questa della monsters perché tutte e due ma tutte le magliette sia monsters questa di qua che ve lo faccio vedere è sia quella maglietta grigia che volevo prendere proprio deciso di prendermi questa bianca e con i cappelli appunto alla fine ho deciso questo però mi piaceva mi piaceva però se non mi fa piangere titanic ok basta vabbè allora anzi mi è venuto un'idea per concludere questo video diciamo l'ho mischio in taccaso oggi ci tenevo fare una cosa speciale alla mia amica che mi vuole tanto bene e io pure se trovo la musica perché oggi una mia amica fa il compleanno fa 17 anni e ora vi dico chi è così lo vede tua madre e sicuramente sarà contenta dai ti faccio questo regalo anche se allora ok trovo la canzone adatta infobelz infobelz aspetta questa no allora vediamo questa di qua dei minions ok allora la amica che fa il compleanno oggi 17 anni e alessia patellaro ti mando un bacio alessia spero ti piace questo video che ti voglio fare tanti auguri in questo video così lo vedi su youtube e lo vede pure tua madre va bene e ti canto questa canzone per il tuo compleanno di oggi tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri cara Alessia buon compleanno auguri spero che ti sia piaciuto questa musica anzi è l'ultima volta dai ancora mi sto divertendo mi sto divertendo lasciate dei suoi like in questo video specialissimo di tutte e due tanti auguri a te tanti auguri tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri cara Alessia, tanti auguri a te. Lasciate il link in descrizione, commentate e se vi sono piaciuti queste magliette che vi ho fatto vedere, le faccio vedere di nuovo prima di chiudere questo video, questa di qua, questa della Ceres, cioè quella della Monsters e quella di baci e abbracci, ma forse marca non è, perché non si sa di preciso, e questa della frutta, lasciatemi tanti commenti, vi prego, non so se poi porterò, diciamo a fare questi video, però mi è piaciuto come primo video a fare sui vestiti, mi è piaciuto tantissimo, va bene, vi saluto a tutti, vi auguro buone vacanze, a tutti i miei compagni, saluto a tutti i miei compagni, tutti quelli che mi conoscono, tutti quanti saluto, a meno per non fare 100.000 nomi, naturalmente, mi mando un bacio, ti mando un bacio anche a te, Alessia, tanti auguri e buon compleanno, spero ti sia piaciuto la canzone, se vuoi puoi lasciare un commento in descrizione, se no me lo dici in chat, va bene, ciao, ti voglio tanto bene, e spero di passarli bene insieme ancora, qualche due anni al massimo lo passiamo al Basile, io pure. auguri Alessia, auguri, ciao a tutti, ciao, auguri Alessia, auguri, ciao, dal vostro Gabri Gamer.